Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui per fare l'unboxing creato da me Speriamo capiato la mia scrittura Di questa, lo Surprise Air Force della nuova serie Che tra un po' arriverà in Italia e non vedo l'ora di aprirla Perché ho visto le immagini e i video e sono bellissime Ha i miei capelli più lunghi E poi ce n'è una che somiglia molto a Rosalba Quella che ha fatto la canzone di Bipolare E niente, bando alle cianci, ciancio alle bande Io già so chi c'è dentro perché l'ho creata io Però voi non sapete chi c'è E quindi adesso iniziamo ad aprire Rimostrato Questo è tutto per a mia Non c'è niente Ma secondo me al primo strato c'era l'inizio Se non mi sbaglio All'Air Force della prima serie Boh Non mi ricordo adesso Che io non le ho mai aperte su YouTube Dove c'è sempre a parte le Air Force Ci dovrebbe essere l'inizio? No, ho messo tutto nell'Hubble Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Dove era? Dove era? Dove stava? Raga, non mi vado Dove era un'altra grammatica italiana Dove era? Dove era? Eccoli gli stickers Eccoli qua Vabbè, i soliti Lo specchio solito E poi c'è l'indizio L'ho scritto bene? Topknot Che significa Che significa topknot? Fatemi pensare Nodo in su significa Quindi vabbè Questa è la check Io sono creata da me Tanto io faccio solo un club Atlesi club C'è solo qui Ma ci dovrebbe essere un'altra Secondo me troviamo proprio questa E infatti il che l'ho fatta io Però no Qua che c'è? Apriamo La busta che è la trame Eh, ho già capito chi è Tiriamo tutte le buste fuori Qua che c'è? C'è l'accessorio Tutta l'accessorio Sì, è rotto Lo buttiamo di là Tutta la carta va via di qua Tutto quello che non ci serve Qua che c'è? Il duberon Qui? Immagino le scarpine Oh oh, blackout Luce è ritornata ragazzi Aspettate No, la scarpa è uscita fuori da sola E adesso Proviamo il vino Proviamola insieme Sì, è lei proprio pinz In versione abbronzativa E adesso Con lo scotch Vestiamola 3, 2, 1 Ed ecco qui La nostra Pinz Come si chiama Vestita Vestita Di salutarvi Volevo dirvi che il tutorial Si fa con la carta Dovete Dovete Vedere tanti fogli di carta Dovete disegnare bene Ma io non è che ho disegnato proprio bene bene Perché dovete copiare l'immagine Per disegnare bene Questo è il trucchetto svelato E Seguitemi anche su TikTok Con il profilo di Mary29Lol Se mi trovate con l'immagine di Oops Baby E una lol di colla a caldo dietro Quella sono io E niente Noi naturalmente Non ci vediamo domani con un nuovo video Perché oggi ne ho fatti due E quindi ci vediamo Lunedì Ciao